o bucaioli cellepaste o su bucaioli leno freschi allora come siete stati per questo per questo Natale, avete mangiato avete bevuto, avete cacato pisciato, trombato, che avete fatto l'importante è che vi siete stati bene poi a me mi importa una sega che se vi siete stati male sinceramente allora io vi volevo ringraziare perché per la prima serata del nuovo tour teatrale che arriverà nelle piazze gli arriverà dappertutto in mondo da Macciupiccio fino a Vivo Valencia il nuovo spettacolo di Toscana Maremma Vaiala Live da qui il titolo gli è con le mani Lerce Live 2018 un pochino più lungo non lo potevo fare vabbè a parte questo, noi vi s'aspetta vi s'aspetta tutti noi io, Iuri Bellini della pagina Toscana Maremma Vaiala e Daniele Angeli del compagnia teatrale senza fissa memoria questa compagnia teatrale di improvvisazione che verrà a fare con noi questo Capodanno questo lo bello è detto poi con noi ci saranno tutti i personaggi da Leonardo Di Garciana il barista Di Baugiano lo zingaro stressato Ippanerai che è un personaggio che faccio solamente esclusivamente agli spettacoli dal vivo che su internet un tu lo trovi te la voglia cercagnere e un tu lo trovi quello lo fa solo agli spettacoli a pagamento se no non lo fa neanche poi un'altra cosa i video doppiaggi sono completamente inediti quindi non c'è niente di quello che voi trovate su internet ci sono tutte altre cose se no grazie a chi non è lì di vedere le solite cose vecchie poi non si rompe i coglioni noi si vuole cose nuove ci si rinnova e ogni spettacolo ripeto è improvvisato è quasi tutto improvvisato così che il che succede succede io poi propongo una cosa per i preglioni di Capodanno se si ha il pinco dopo è tutto saurito quando si è finito saremo gonfi pieni come degli ovvi di mangiare si ha tutti a scarsi a piedi scarsi si ha tutti a Baugiano anzi si ha a Bacarello piglia l'acqua a Bacarello scarsi per digerire per fare due passi se tu te la senti se tu te la senti se non tu te la senti tu vai sorti alle palle e tu vai a tuo amice di la palle che ti devo dire io ci ho metterci in qua la testa si ha la coppia si prende i salsiccini e si fanno a sbracciare e si rimangia e si rimangia si festeggia anche il primo allora Bucaioli ora stavo scherzando vi aspettiamo io e Daniele Angeli al ristorante Pinco per il veglione di Capodanno che ripeto lo spettacolo inizierà dopo mezzanotte fra diciamo mezzanotte e mezzo il tocco di notte dovrebbe cominciare questo grande spettacolo di Toscana Maremma Maiala live con le mani l'erce live 2018 coso capito coso e se no se è un buon venite voi siete perché io ve l'avevo detto fissate fissate vabbè tanto anno nuovo ci saranno tante date e vi ricordo che il 25 marzo saremo al River Pub ma non la ciabatta al River Pub di Guarrata al domenica 25 marzo a River Pub di Guarrata questa è una data che so di già ufficialmente già firmata scritta poi ce ne saranno tante altre anche prima di marzo però ancora non so il giorno preciso quindi non ve lo posso dire ma ce ne sarà tante fra Prato Firenze e Pistoia ce ne sarà tante e speriamo anche un pochino più in là più in là più in là allora ragazzi io vo a cena perché ho fame e che vi devo dire buona a tutti buone feste buon anno mangiavi buono bevevi più e di culo a chi ce le male buonasera ciao 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 ciao